Il 3 maggio ci sarà il primo festival arabo normanno, lo chiamiamo primo perché speriamo sia il primo di una lunga serie, appunto magari una manifestazione che si possa ripetere ogni anno e perché no, magari asportarla nell'entroterra siciliano, risvegliando magari le coscienze dei vari paesi della provincia di Palermo. Il festival ha l'ambizione di invitare, non solo come spettatori cittadini palermitani e siciliani, ma soprattutto invitare tutte queste persone a partecipare attivamente alle nostre attività, perché all'interno del festival ci sarà uno spazio dedicato per esempio a un'arte millenaria, nella quale grazie a Federico II, che è il nostro punto di riferimento associativo, siamo stati punto di riferimento per circa otto secoli nell'arte della falconeria, per esempio. Ci sarà una parte fortemente dedicata all'associazionismo, i ragazzi di Palermo Risorgia attraverso alcune foto di alcuni monumenti arabo-normanni, tratteranno dei temi politici da rilanciare, perché il nostro modus operandi è quello di riprendere le leggi dell'imperatore, le leggi dell'imperatore Federico II della Palermo ovviamente del 1200, riaggiornarle e perché no rilanciarle, perché è stato un periodo storico dove Palermo faceva da contraltare sicuramente a città come Roma, come il Regno di Israele, come il Regno di Francia e quant'altro. L'associazione Palermo Risorge praticamente ha operato nel quartiere dove ricade la parrocchia annunciazione del Signore, facendo diversi interventi proprio di tipo giovanile, di volontariato, di mettersi a disposizione della collettività e da lì è nato questo rapporto, questa conoscenza. Loro avevano questo desiderio di portare avanti il festival arabo-normanno e allora mi sono dato da fare sostenendoli e appoggiandoli, perché bisogna promuovere i giovani, non bisogna lasciarli fuggire da Palermo o dalla Sicilia, anche perché praticamente c'è una ricchezza in loro, c'è una creatività, c'è una spontaneità, ci sono delle risorse incredibili e vedere in questi giovani che desiderano fare risorge Palermo quando Palermo è stata veramente, così come la definì Giovanni Paolo II, crocivia di culture, crocivia di popoli. Per quanto riguarda il festival arabo-normanno ho legato la figura di Santa Cristina perché viene martirizzata nel 304 Santa Cristina di Bolzena perché nel 1155-56 portano le reliquie, il periodo normanno, portano le reliquie di questa santa a Palermo e da lì inizia questo legame. Ma perché il legame? Perché Cristina era indomita e credo anche i normanni erano indomini, coraggiosi come era stata Cristina e quindi ci sono rincontrati, ci sono rivisti in questa figura. Pensate che Cristina è la protettrice degli arcieri, dei palestrieri, dei mugnai, dei bambini, cioè tutta una situazione molto bella e poi diciamo questo che c'è stata una fiera fino al 1800 che si faceva in onore di Santa Cristina e quindi c'è una ricchezza evidentemente molto bella.